Volo zano vio, ragazzo Hai visto quella a Yemmello del Foggia? Che cazzo hanno camminato? Che ha fatto? Gli hanno incinato la macchina Sono dalla macchina Attitati contro Yemmello e bussistato Guardate, guardate e non perdere Ma che palle Questi che prendono Lifeline sono a livello 3 Sì, sì Che vedo che si cura, capì? Allora prendono 3 Prendono Lifeline Eh, 20 L'idea stai no Ehm, let's accort this Si è deciso mo? Si Eh, meno male, meno male a Cristo Ma non hai visto prima che ho messo al bunker? Eh, no, non ho visto che... Ho messo prima al bunker e poi spostato Perché al bunker potremmo essere i primi a entrare Eh, vai, dai No, ormai abbiamo passato Per quello ha scritto che Dai Ma fretta, fai finirci Ehm Avevano già il nome del titolo di Youtube, eh Ehm Eh, adesso devo vincere Da qua non lo devo occupare Ah, da solo mi lasciate qua? Eh, no, 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 no Nemico, nemico, nemici, nemici Stanno, stanno Lo devo occupare, ammazzo tutti col mio Spitfire No, io devo scappare per forza Ma ma bastardo, l'ha streccato tutto Ovviamente io Dove stai? Non lo vedo là Perché qua c'è una squadra E non posso affrontare Sono due squadre La corazza blu Ehm, stava una bianca C'era rubata quella? Si Ucciso Ma questo se l'hai fordito un casino Era il 91 Io, 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 io Eh, però magari mi lasciate le emozioni Ah, io non c'ho C'ho una sola arma, ti cos'ho questa? Ah, dai, prendo le vattie Questa comunque stava da solo Perché l'ho ucciso Sei tu che stai mirando? No, lui Ah, ma quello sta sparando a quell'altro Che sono due nemici Cazzo, non muore questo Da lontano la Spitfire fa schifo Vado, vado senza corazza Senza corazza, quello Dove sta? Eccolo L'ha tolto 95 Vabbè, ma questa è una ladrata, eh E' la mia, l'ha ucciso Bastante Carabina, eh Senti i passi di sto porgione Eccola qui Oh No, dai, non è possibile Ma li hai fatti tu e chi? Non li hai fatti a quello Eh, io, non cazzo Ma pezzi di me le ha freccato tutte le chili La resa, munizioni gialle, lasciale No, le prendo Non c'è ruolo l'arma gialla No, questa coglia sta subito pronto a rubare, oh Questa è un'ultima Accelera Oh! Ok, è rialimato? Oh no Che cosa hai avuto? la sabbia la sabbia ma che cazzo stavano a fare questo esitua la nave tipo lo fate a fare ho notato che arriva alto arriva alto sull'ottica e shotgambotto non c'è nient'altro vabbè dove andiamo? di qua ah da la zipline tu sai che non la zipline ah è un altro dio un protidione ah di là? ok ma tu sto giro che percentuale stai di rifornimento? ah io non c'ho non sono live ah si ti trovi in una stabilizzatura vorrei tanto un peacekeeper si no tu? uno speedfire uno speedfire ovviamente non c'è allora dove va questo? lo so ah ma era a te cazzo io stavo impazzendo qua per cosa? che sentivo il robottino in realtà eri tu che si sentiva dalla tua televisiva ah si si ah si no pensavo invece che insomma ha le cuffie sento entrambi vale dove vai? vieni in safe perchè sta vicino dai cazzo andato ah si si è vero mi devo abituare a usare bann eh no manco la bocca di apri la mia panna vuoi munizioni blu? perchè non ti segui? eh no c'era il 99 peacekeeper solamente che ok basta c'hai l'otturatore? si l'ho tolto da mia aveva otto eh ah che cazzo vi fateva otto? eh si solo per in previsione di cambiarlo ma tu sei sopra? ah no aspetta cazzo 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 ma c'ho le siringhe cazzo 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 he's keepin' a la buf non Dio, mi ha bisogno. Vedi, quando non sei tu il lifeline non mi faccio scru. No, è giusto, è giusto. Ragazzi, andiamo? Eh sì, come si sa qua? Sempre sta cazzo, aspetta. No. Sempre fuori dalla safe room, incredibile. Sì, io, io, io. Sempre c'è tra l'otturatore del peace keep. No, l'otturatore della strazzatura. Ho un futuro animale. Eh, ma da dietro. Oh, andiamo, 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 andiamo. Arrivo. Oh, feriti. Tutti morti? Sì, erano due. Che cazzo avevano? Che cazzo ce ne avevano poi questi... Scusa, e beh, non erano rianimati. No, uno sì, l'altro no. Ah, ma quello di uno, cosa ne aveva? Eh, stabilizzatore. No, ma la granata, ma fredda. Ce ne ha quattro. No, 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 no. Ce ne ha quattro? Ce ne ha quattro? Ce ne ha quattro? No, ma le granate sono di squadra. Le granate sono di squadra, nel senso... Ah, ok. Sta come al pazzo questo. Sta a fregare di tutto. Ah, puti, hai faiato la colazzata d'ora. Eh, blu. Lo piovono, cioè. Eh, tutti li ho detti. Adesso, l'ultima volta che stavo giocando con R-99, più schifo l'ho vinto. Sto facendo mille d'anni sia uccisione. Che armi c'hai che si appena il tuo bloc compressore? No, no, te lo stavo indicando pure io. Sette squadre, dove cazzo sanno sette squadre? Vai, ma qua. Se trovi il caricatore del giro, ho ben dato. Eh, io quello ci ho. Eh sì, io c'ho la carabina. No, no, no. Carabina e speed. Ma vuole cosa la carabina? Sì, prima, dopo che ti ho lasciato il coso ho trovato la carabina. Sì, ma stiamo dentro una casa, no? Non la sanno già. Che l'ho trovato? Era 18 metri, non cambiamo. Se moriamo così. Sì, no, te lo vado. Sì, no, te lo vado. Sì, no, te lo vado. Big days in death. Big days in death. Ma dove ha chiamato il car package? Io sì, tocca e lui ha chiamato il car package, ma non sta niente. Ha fatto big days in death, car pack. Non sta troppi passi. Sì, ma dove va? Dove va? Prendi la fune. La fune? Sì, sì, prendi la fune. Che fune? Questo. Dove vai? Dove vai pure tu? Ok. Ma no, stai cadendo. Oh, chi ha chiamato i rifornimenti? Eh, eh. Un wifi mini. Cazzo. Ah, stanno là dietro. Vedi il fumo. A 31. In alto. Oh, sei qui a questo? Sì. Sì, ma si deve giocare così. Prendeva lui il vangalo. Eh, infatti. Oh, il pazzo sta lui. Qualcuno ha reanimato. Sì, tanto ha questo qua il camminato. Ma qua si rianima, eh. No, dall'altra parte sicuro. Dietro le montagne. Quattro su quattro. Comunque dalla dietro vengono. Da 350 verranno. O di che sanno pure loro in safe. E allora vengono andate. Chi è che sta correndo? O il kong? Grazie. La mia vita è il pazzo. Che non si è ancora mosso da là. Ah, qua dovremmo vedere, comunque. Allora tu. Questa è una main area di moto. Oh. va dietro va dietro 312 da dietro sta ma come si è bloccato? come si è bloccato? dov'è? ah no sta a fare una cosa sta muovendo ci serve il live eccoli lo sapevo! lo sapevo che venivano da la no sei un Gibraltar ah il Gibraltar fa male dobbiamo andare sotto sono due comunque sono due? vabbè avviciniamoci a quello che ora sicuro va vediamo proprio che ho il cecchino mamma mia vabbè se c'è il cecchino si può stare chi è chi è? pensi che ci ha tirato la merda ho tirato io la ottimo ottimo dov'è? dove sta quello? ah ma sta giù vai giù vai giù giù dove ho? ucciso oh madonna mia madonna sandissima che c'ha questo madonna sandissima madonna sandissima madonna sandissima previ stati vedi in basso a sinistra che ho stava che sa? mamma mia ci avevano tutto quello ci avevano fatto in dinghy non so se ma se fammi di guardare peskipper posero spiffer che dici? cos'è che vuoi? peskipper posero spiffer no 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 spiffer è la posa del peskipper si no 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 perchè ormai c'hai il cuso bolt viola c'hai il sforzatore viola no no quello era sceso giù capito ma sarebbe morto se non scendevo pure io ecco lì ti ha sparato ha sparato il nostro amico il nostro amico ha sparato mi mirano oh no sono due sono due squadre che stanno uno là e uno là e noi siamo tre eh farli farli incontrare ma tu dove va questo? no vedi quello vedi quello dove va? gli tiro la granata lì in mezzo vediamo cosa succede vabbè ho ucciso uno vai 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 si le stavo sparando granata tu li vedi io non vedo nessuno a chi stai sparando minaccia digitale minaccia digitale ma che affiniamo a qui i ciechi l'ho detto ma davvero incredibile la profezia oh non possiamo parlare la profezia la profezia la profezia funziona sempre io lo dico troppo non può far meglio ci credete mamma mia mamma mia mamma mia Grazie.